GF Vip, Luca Onestini, il fratello critica di Nuovo Soleil Luca Onestini del grande fratello Vip, l'ultimo attacco del fratello a Soleil Sorge. Non c'è davvero un solo giorno in cui Soleil Sorge non faccia discutere. . E dopo le sue ultime rivelazioni a pomeriggio 5 qualche giorno fa, ecco arrivare una nuova dichiarazione del fratello di Luca Onestini, che ha di nuovo acceso gli animi sul web. . Difatti, il ragazzo, intervistato dal settimanale Spy, ha attaccato nuovamente la fidanzata del concorrente del GF Vip, asserendo senza alcuna esitazione. Lei ha fatto delle storie su Instagram dove mi insultava. In privato non l'ho mai sentita. Quando è andata dalla D'Urso non ha mai parlato di Luca e non lo sostiene e pensa solo a se stessa. Ho forti dubbi sul fatto che gli voglia bene. . Parole durissime quelle espresse da Gianmarco, che hanno lasciato i numerosi fan del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi senza parole. . La bella Soleil risponderà per le rime al fratello del suo fidanzato? Chissà. Ma per quale motivo è scoppiata questa polemica? GF Vip, Soleil sorge nella bufera, la nuova critica del fratello di Luca Onestini. La scorsa settimana Soleil sorge è stata sorpresa in macchina insieme al rivale di Luca Onestini, scatenando furiose polemiche. Polemiche acuite anche dalle critiche del fratello del concorrente del grande fratello Vip e della ex fidanzata di Marco Cartasegne. Motivo per cui si è scatenato un furioso botta e risposta tra i tre sul social. . Tuttavia non è finita qua perché proprio qualche giorno fa la ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata invitata da Barbara D'Urso a pomeriggio 5 per parlare di questo fatto. . E in questa occasione la bella sorge è sbottata, facendo un'altra clamorosa rivelazione. Cosa ha detto? Andando nel particolare, Soleil ha asserito di aver scoperto in questi giorni che il suo fidanzato sarebbe rimasto in contatto a sua insaputa con Giulia Latini. . E perciò ha dichiarato di essere molto delusa e costernata, aggiungendo di avere molti dubbi sulla sua relazione. Dubbi che pare non avere il suo fidanzato all'interno della casa del reality show Vip condotto da Ilari Blasi. . Infatti, in queste ore, il giovane non ha fatto altro che parlare della fidanzata con gli altri inquilini, dichiarando di essere molto innamorato e di non vedere l'ora di poterla riabbracciare. . Per questo ha anche fatto una sorta di bambola posticcia, facendo fintasi alla sua fidanzata. Tuttavia, quest'ultima pare essere entrata nell'occhio del ciclone per via di questo pettegolezzo. . E l'ultima frecciatina velenosa di Federica Beninca e il nuovo attacco del fratello di Luca, sembrano aver infiammato ancora di più gli animi. Ci saranno presto altri colpi di scena su questa intricata faccenda? . .